lori del santo non sogna il matrimonio ma per le eventuali nozze sul partner non ha dubbi sposarmi lo farei solo con andreotti o berlusconi per provare il potere puro come carla bruni la showgirl 50 anni non ha però il matrimonio tra le priorità pur essendo molto presa dalla sua nuova love story con rocco che ha 24 anni meno di lei su diva e donna per la prima volta l'attrice posa con il fidanzato a rocco pietra antonio 26 anni impiegato in una televisione privata di bari e presentatore di convention ci siamo conosciuti grazie a facebook spiega la del santo è stato un colpo di fulmine ci siamo incontrati a roma il 29 dicembre negli studi della rai dove stavo lavorando quando l'ho visto ho capito che saremo diventati una bella coppia grazie a tutti grazie a tutti